Sabato sera dei ladri hanno messo a segno un furto in Contradarci, Taverna, Santa Marta, a Canicattine, l'abitazione di un commerciante cinquantenne. I ladri, secondo una prima ricostruzione, con un flex sarebbero riusciti ad aprire la cassaforte e a portare via una pistola calibro 7,65, completa di caricatore e 50 cartucce, regolarmente detenuti e loro di famiglia. L'azione è stata compiuta durante l'assenza dell'uomo e della sua famiglia, fra le 18.30 e la mezzanotte. Sarebbero penetrate all'interno dell'abitazione dopo aver forzato un infisso. I ladri poi hanno trovato la cassaforte e l'hanno aperta con l'utilizzo del flex. Hanno prelevato tutto il contenuto, gioielli, pistole e cartucce. Quando il proprietario è rientrato si è reso subito conto che qualcuno era entrato in casa, così è chiamato i carabinieri della compagnia di Canicattì.